ciao ciao stellina bella come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene come avrete detto questo video sarà un hola di alcuni oggetti precisamente ben dici che mi sono arrivati in un pacco nemmeno un'oretta fa e mi sono subito fiondata a registrare questo video infatti è pomeriggio come sapete non amo particolarmente questo questo arco questa parte della giornata per registrare i video ma siccome non vedo l'ora di utilizzare determinate cose volevo farvi vedere gli oggetti ancora in tosi come vi ho detto appunto sono dieci oggetti secondo me la maggior parte triggerosi quindi sarà un hol molto molto rilassante vi dico subito che voi potrete usufruire di un 15% di sconto con un codice che vi metterò vi scriverò qui e anche in infobox e avrete di tempo fino al 14 dicembre per usufruirne parto subito con il primo oggetto che è questa che poi direte che cos'è allora guardate si presenta in questo modo quindi credo sia una bellissima idea anche come pensierino per Natale e vedete com'è impocchettata come è impocchettata bene questo fiocchettino ha questo fiocchettino ed è abbastanza robusta e questa qui l'avevo già adocchiata l'anno scorso solo che non sono riuscita ad ordinarla perchè era sold out e quindi adesso quando devo appunto scegliere cosa inserire nel pacco cioè una delle prime cose che ho fatto è controllare se ci fosse ancora perchè non si trova sempre e vedete c'è anche il retro che si può utilizzare ho letto le recensioni ed è un validissimo prodotto ma vi dico subito cos'è è una pietra pomice per i piedi è troppo troppo carina cioè anche da tenere nella stanzetta in esposizione cioè troppo carina e appunto vi dicevo che io sempre mi rifaccio le recensioni per me sono fondamentali di qualsiasi prodotto in generale vado sempre prima di acquistare qualcosa a farmi una bella lettura di tutte le esperienze e su Shane ha sempre cioè ve l'ho sempre consigliato di leggere bene le recensioni anche per le misure di alcuni prodotti e questa è recensita è recensita ottimamente quindi io vi dico la verità l'ho presa più per una questione estetica era troppo troppo cute vedete troppo troppo carina e tra l'altro costa pochissimo poi passiamo a una cosa che io già ho ma che non cioè con cui non ho mai fatto un video perché non c'è stata ancora l'occasione e sono le famosissime appolline che io ho già di colore azzurro me le regalò il mio fidanzato perché le avevo nella wishlist di amazon e e c'erano sia così che rosa le rosa erano finite e me le ho prese azzurre appunto vedete nella confezione e questa volta le ho prese rosa su shane che costano molto molto di meno del prezzo che trovate su amazon quindi c'erano fare e le ho prese qui ora ve le faccio vedere crepe star bull più di crystal bull e in più queste rispetto alle mie che ho hanno anche glitter oltre ad essere oltre ad essere di un colore diverso eccole qui sono troppo contenta sono bellissime guardate con queste ci devo fare assolutamente un video devo solo imparare a farle funzionare e queste vabbè io le uso per il video però sono ottime per fare dei massaggi fritti al viso so che sono molto soddisfacenti e fanno il loro dovere sempre leggendo dalle recezioni ma come anche quelle di amazon con la differenza che queste costano molto di meno troppo troppo belle queste in estate sono una goduria da utilizzare sul viso questo vorrebbe avere la parte delle occhiaie secondo me sono ottime queste vanno messe in freezer e c'erano anche viola e azzurre oltre che di questo bellissimo rosa fucsia vabbè poi ci farò un video interamente dedicato suono ma che belle cioè queste oltre al suono anche come viso al trigger sono stupende infatti potrei registrare il suono e lo mettere come sottofondo e poi vi massaggio così il viso che ne pensate lo dovrò fare lo dovrò fare ora passiamo a questi che sono dei sono un amante dei calzettoni e dei calzini morbidi per dormire ho visto questi e non ho resistito cioè ma quanto sono dolci guardate questa faccetta e poi sono super super morbidi e hanno queste orecchiette qui vedete sono anche abbastanza elastici vedete mi sembra sia mi sembra sia una taglia unica anche perché vedete si vedete si allarga molto troppo troppo belli e mi ha colpito la morbidezza perché li ho tirati fuori per farvi appunto vedere ho tirato fuori già un po' di cose perché ogni oggetto che vi faccio vedere era chiuso nella propria confezione però non voglio farvi sentire il suono comunque secondo me un po' fastidioso della plastica vanno bene i crinkle sounds però un po' too much ho questa plastica e quindi evito e quindi distraendoli dalla bustina ho al tatto sentito subito questa morbidezza e e ce n'erano anche di altri tipi con altre faccette molto molto carini questi qui poi poi ho preso una cosa che non vedo l'ora di provare ma credo subito appena chiuderò questo video la metterò e sto parlando delle extension la coda di extension le sto vedendo tantissimo in televisione soprattutto alcune influencer personaggi famosi amano utilizzare amano variare insomma pettinatura applicando dei supporti che siano extension a coda o tipo chignon già fatti mi ha colpita troppo questa mi ha colpita troppo questa coda e l'ho cercata l'ho cercata un po' su alcuni siti e alcuni siti anche su amazon ma costava tantissimo quindi l'ho vista su shane le recensioni erano erano ottime e eccole qui hair extensions hair extensions e l'ho presa di questo colore qui ma c'erano anche altri colori tipo più hondo forse un rosso ramato più scuri ce ne sono pari comunque su shane vi metto ovviamente i link di queste in particolare che erano delle ottime recensioni e ve la faccio vedere è chiusa è chiusa nella sua retina e vi faccio subito vedere comunque vi metterò un'immagine qui della modella che l'ha indossa così per farvi rendere conto allora ecco qui allora al tatto non sembrano di quel sintetico fintissimo e sono liscissimi e morbidi sembrano appena non so sembra che è stato appena fatto un trattamento morbidente e vedete come si qui voi fate lo scignone tipo e poi dopo una una coda e poi dopo chiudete qui e girate questa ciocca che vedete già è stata divisa la girate intorno per fissare comunque dovrebbe essere abbastanza semplice da mettere e la colorazione è azzeccatissima sono contenta che ho un po' di dubbi però alla fine va benissimo perché pensate che il colore anche ci siamo e pensate che ho la luce comunque forte in faccia quindi senza tutta questa luce sicuramente non si vedrà per nulla la differenza e vedete sono molto molto lunghi non vedo l'ora di provarla poi vi farò sapere come mi sono trovata le recensioni positive lasciano ben sperare e quindi di questa sono molto molto entusiasta questa è una dei motivi per cui ho voluto registrare subito il video perché voglio utilizzare un sacco di cose comprese i calzini i calzini altre due tre cose che vi faccio vedere un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo e che utilizzerò subito questo sono queste pantofole che vi farò vedere bene tra un attimo solo che voglio far vedere che sono chiuse nella nella loro bustina va bene prendo giusto una inutile prenderle entrambe ed eccola qui è grigio è lo stesso identico grigio sulla parte bassa della pantofola la parte inferiore è lo stesso identico grigio del mio pigiama che avete visto nel precedente video fateci caso è uguale e poi sopra le superfici sono nere e sono morbidissime il numero è azzeccato io ho preso un 38 39 anche se generalmente il mio numero è il 37 ma per le pantofole preferisco un numero maggiore sono troppo belle e dietro va bene sono fatte così tutto quello che vedete vi assicuro che i prezzi sono davvero passi ok poi vi faccio vedere questi auricolari anche questi chiusi nella propria bustina che ho preso perchè in un gruppo telegram in cui ci sono anch'io queste ragazze parlavano di quanto fossero valide degli auricolari di Shane non pensavo vi dico la verità però ho detto vabbè ci provo perchè come vi dico sempre io rompo almeno due paia di cuffie al mese quindi spendo un patrimonio di auricolari e tra l'altro ho queste che mi hanno uccisa che mi hanno disintegrato questa parte dell'orecchio cioè ce l'ho proprio super irritata sono pessime queste cuffie ho comodità e infatti ormai prendo solo quelle con i gommini e senza microfonino perchè appunto queste cuffie io le utilizzo per registrare per montare video e purtroppo mi si rompono spesso e quindi e quindi sempre meglio abbondare vi faccio vedere queste pensate costano solo un euro un euro e sono con i miei amati gommini sembrano anche abbastanza lunghe comunque le trovate ci sono di tantissimi modelli a me ripeto mi servono senza microfonino ma ovviamente c'erano anche con di vari colori io ho preso queste qui anche le cuffie quelle là da bluetooth insomma c'è di tutto ok ora vi farò vedere una cosa che in questa casa è indispensabile e che vende solo shane a questo prezzo nei negozi non ho mai trovato nulla del genere e al massimo li trovate su amazon ma ad un prezzo comunque maggiore e sono i fogli pergamena forati per la friggitrice ad aria c'erano indispensabili per chi ha una friggitrice insomma capirà e per alcuni alimenti è necessaria secondo me quindi noi riprendiamo su shane ci sono sia bianchi che questo colore qui sia tu o pari che quadrati e di vari misure e questi sono 100 fogli se non erro tonti questi li ho già testati perchè li uso da un annetto e vanno benissimo sono quali appunto quelli che si trovano su amazon solo che costano meno poi passiamo a un oggetto di cui inizialmente ero un po' pentita dopo aver fatto l'ordine perchè ho detto ma se non fai il suono che dico questo oggetto che per me è inutile e invece ha superato le aspettative questo qui l'ho preso per come trigger come oggetto per fare suoni ma anche per registrare il suono dell'acqua sopra questa plastica è questo ombrello trasparente che ha vabbè questi fiocchi di neve ma non mi interessava di utilizzarlo come ombrello ma per farci dei suoni e per registrare come vi dicevo qualche suono non so se buttare l'acqua col contagoccia non lo so devo capire vorrei riprodurre tipo un po' il suono della pioggia che sento spesso nelle live di Twitch e sono innamorata di quel suono e non so dove cercarlo dove trovarlo per mettervelo magari come sottofondo di qualche video e quindi proverò a riprodurlo io in qualche modo ovviamente tutti i link dei prodotti che state vedendo vi lascerò giù in infobox e beh non lo aprirò anche per ovvie ragioni anche questo era contenuto in una bustina che ne pensate di questo suono mi piace tanto mi piace molto di quello che pensasse mi sarei qui ora mi sto rilassando anch'io mi sto rilassando anch'io mi sto rilassando anch'io allora vediamo un po' cosa manca 1 2 3 4 5 6 7 8 ok mancano altre due cose allora ho preso queste per metterle sopra il mio letto ok vabbè ho il letto con la ho il letto con la spalliera e di solito ho altre luci però per questo periodo natalizio volevo qualcosa di più a te ma ecco e ho optato per queste luci ecco vedete i cristalli i cristalli di neve e questa è una luce dovrebbe essere a luce dovrebbero essere a luce gialle dico dovrebbe perché avevo messo la doppia pozione che era indecisa tra due quindi è bello scoprirò quando l'accenderò purtroppo per il momento cioè non ve li accendo perché per il momento le uniche pelle che ho sono inserite all'interno del microfono sono se non erro la misura è un metro e cinquanta forse la lunghezza perché c'erano di varie misure ve lo scrivo qui da qualche parte con qualche misura è questa e all'interno come vedete ci vogliono tre pile quelle lì grandi le AA si chiamano così AA più quelle là abbastanza grandi cicciotte e poi poi e poi l'ultima cosa che vi mostro è questa sciarpa che avevo letto fosse di fosse di un ottimo tessuto è molto bella io ho deciso di prenderlo è abbastanza grande questi due colori insieme io li amo soprattutto di questo periodo poi vedete io ve lo dissi già anche nell'altro video io vesto sempre di nero i capotti neri e quindi questo colore che è un po' spezza mi piace tanto poi mi sta abbastanza bene quindi ho votato per questa qui secondo me è molto carina e questa è perfetta sia per ragazze che per signore mi piace mi piace tanto anche di questo ovviamente vi metterò il link ok riprendo il mio ombrellino perché fa un suono paradisiaco per me e vi ricordo il codice sconto 15% su tutto e avete di tempo fino al 13 dicembre o 14 vabbè comunque tutte le informazioni ho fatto così di fretta che ho visto solo di quanto era il codice sconto e il resto delle informazioni ve lo ve lo scriverò giù nell'infobox bene stelline il video finisce qui spero che vi abbia rilassato sia io che questi suoni e gli oggetti erano tanti quindi non mi sono potuta soffermare troppo suoni di loro tranne su questo perché mi sono un attimo imponitizzata vi mando un bacione grande grazie per aver guardato questo video e dovremmo rivederci molto molto presto perché ho altri due video in programma e da generale questo mese sicuramente che qualcuno mi ha chiesto mi farai video nel periodo natalizio nel mese di dicembre anzi una ragazza mi ha scritto prometti che farai dei video qualche video in questo periodo ovviamente come vi ho già detto quando posso la mia promessa era che avrei cercato di essere costante di registrare appena avrei potuto come oggi per esempio appena arrivato il bacco mi sono subito fiondata a registrare e nulla stelline vi auguro una dolcissima 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 buonanotte buonanotte stelline tanti 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 buonanotte fate pesoni ciao grazie buonanotte è bella torre Grazie a tutti